Siamo arrivati a questo video a futuro memoria, vi ricordo delle precipitazioni di un'abbondanza enorme che ci sono spazzate. Questo macco che ha scavato un ruscello per conto proprio, e qui non c'è mai stato una via da qui. Questo ruscello è stato scavato dalla forza della natura. Entra sotto una galleria di lieve ancora, che sta collegando con l'altro ruscello, anche questo è naturale, che sta venendo solo dalle piane. Ma mai vista una cosa del genere? Sì